Siamo cresciute tutte fantasticando di diventare delle principesse e di trovare un cavaliere dalla scintillante armatura e di vivere felice e contente. Ma vedi, il fatto è che è solamente questo, una fantasia. Stai bene! Non temete, sono stato disarcionato da cavalli molto più veloci del vostro destriero d'acciaio. Non ha neanche un graffio. Sembra che Sir Cole creda di essere un cavaliere del XIV secolo. Sir Cole Christopher Frederick Lyons di Norwich, al vostro servizio. Oh, mamma. È colpa mia. Dove sono i menestrelli che suonano la melodia? Sono alla radio. Lo aiuterò finché non gli tornerà la memoria. E se fosse pericoloso? Fidati di me, è inoffensivo. Prima di tutto credo che dovremo aggiornare il vostro guardaroba di almeno qualche secolo. I miei omaggi? I miei omaggi? Vi lascio vestire. Ma sapete che viaggiare nel tempo non è possibile, vero? Ho viaggiato fino a qui e non importa se non capisco come. Un cavaliere è devoto al valore e alla virtù. Darà sempre aiuto a chi ne ha bisogno. Claire! Claire! Resta dove sei! Ma temo di dover tornare a casa. Ma pensi davvero che a secondare questa illusione gli sarà di qualche aiuto? Ma chi siamo noi per dirgli che non è chi dice di essere? Sicura di non essere una strega? E se Cole fosse veramente chi dice di essere? Se ci fossero cose che vanno oltre la nostra comprensione? Allora direi che dovreste farvi visitare entrambi. Non devi andare via. Non ho altra scelta. Ovunque tu sia, il mio posto è accanto a te. Ma nessuno può controllare il proprio destino. Bella presa. Prudenza, milady.